La neve è arrivata ma gli impianti per decreto restano chiusi fino al 7 gennaio. Un duro colpo alla vigilia del Ponte dell'Immacolata non solo per chi gestisce le stazioni, ma anche per la lunga filiera che sta dietro a una sciata in compagnia, da cui l'allarme dei produttori di articoli sportivi. La chiusura degli impianti e anche la difficoltà di accesso alle stazioni fistiche prevista a partire dal Ponte dell'Immacolata, ma poi anche per le vacanze di Natale, ci preoccupa tantissimo in quanto il fatturato rilevante di queste attrezzature avviene proprio in questo periodo. In Piemonte sono più di 2400 le imprese della filiera sport e il fatturato va ben oltre i 5 miliardi all'anno. La sola produzione, maglieria, abbigliamento, calzature e articoli sportivi in genere, riguarda 182 imprese per 700 milioni di ricavi, numeri che confliggono con pandemia e zone rosse o arancioni. Se il sell-out, l'uscita dei prodotti invernali della stagione in corso dai negozi non avverrà, questo comprometterà anche la stagione successiva, perché come potete ben capire, difficilmente un negoziante che deve ancora vendere la merce dell'anno prima potrà approvvigionarsi di nuova merce per la stagione successiva. Non solo sci e tutto il mondo della produzione di articoli sportivi a soffrire. Solo l'outdoor, l'abbigliamento per sport all'aria aperta, al momento fa sorridere i produttori.